Dentro il squadatorio ce l'ho bene o male con tutti, soprattutto con chi naturalmente è qui da più anni, cioè Gianmaria, Semenzato, Toninieri, tutti quelli che sono, se devo dirtene uno in particolare, Mattia, Mattia che nasceva zocco. Oggi è iniziato a tirare suscita, è il primo segnale di instabilità, no è lui, mi sono raggiunto anche perché già abbiamo un rapporto bellissimo, poi in questo ultimo periodo siamo andati un po' di più attaccati perché eravamo tutti e due da soli e quindi spesso eravamo insieme.